Domani a Palazzo Badini si svolgerà il quarto laboratorio per definire insieme cosa diventerà Pordenone con il nuovo piano regolatore. R di resiliente. Ma cos'è resiliente? Resiliente è la capacità che noi abbiamo di rispondere in modo positivo a delle situazioni critiche. E di situazioni critiche sicuramente ce ne sono a Pordenone. Bene, ci interrogheremo su questo e ci interrogheremo su quali risorse abbiamo e su cosa vogliamo diventare, proprio grazie ad un'idea condivisa che stiamo costruendo con il nuovo laboratorio sul piano regolatore.